Pomodorini confit, semplici, deliziosi e saporiti. Se non li avete mai sentiti nominare, dovete assolutamente provarli. Prendiamo mezzo chilo di pomodorini. Piccolo trucchetto, mettete un foglio di carta assorbente bagnato sotto il tagliere, così rimarrà immobile. Tagliamo a metà tutti i pomodorini. Io ho scelto i ciliegini e i pomodorini gialli, ma potete scegliere la tipologia che più preferite, oppure fare un mix. In ogni modo verranno benissimo. Vedere questi colori mettono di buon umore, ma fanno venire anche tanto appetito. Quindi proseguiamo. Trasferiamo i pomodorini su una leccarda rivestita di carta forno, li sistemiamo in modo omogeneo rivolti verso l'alto. Prepariamo il condimento con olio extravergine di oliva, zucchero, essenziale per questa ricetta, sale fino, aglio tritato, origano, timo e pepe nero. Mescoliamo bene e distribuiamo sulla superficie dei pomodorini. Spezziamo con le mani delle foglie di menta per insaporire il tutto. Mettiamo in forno. Attenzione a non farli bruciare, devono solo appassire leggermente. Passato il tempo di cottura, li tiriamo fuori e... che spettacolo! Hanno un profumo pazzesco e fanno venire l'acquolina in bocca. Adesso li sistemiamo in una pirofila e sono pronti per essere serviti in tavola. Possono essere gustati come antipasto, come contorno, oppure possono essere impiegati in mille ricette sfiziose. I pomodorini confit sono pronti! Se vi è piaciuta la ricetta, fatemelo sapere nei commenti, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto. Vi ricordo che mi trovate su Instagram, su Facebook e su TikTok e potete trovare tutto il procedimento scritto sul mio blog. Buon appetito! Buon appetito!